Buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi, domenica 23 settembre. Vi ricordo che domani sera, visto che nessuno ve lo ricorderà, anzi ve lo ricordo con attenzione, domani sera ci sarà una puntata di Quarta Repubblica. Parleremo di immigrazione, decreto sicurezza, di economia. Ieri sono stato alla festa di Atreiu e voglio ringraziare, mi sono preso qualche nome, Paolo, Francesca, Giovanni, Hermes, tante persone che ieri mi hanno salutato, mi hanno ringraziato della zuppa che faccio tutte le mattine, ci sono tante persone che vedono questa zuppa e che in realtà ne sono diventati addicted e io veramente li ringrazio perché l'affetto con i quali li ho visti ieri da Atreiu alla manifestazione della Meloni mi ha veramente stretto il cuore. Magari guardate anche la televisione così mi fate anche, insomma, fate sì che questo piccolo scricciolo che abbiamo appena messo in piedi possa nascere e prosperare. Chiuse le comunicazioni di servizio, oggi sui giornali tutti quanti parlano del metodo casalino. Insomma, lo sapete, ha detto che ha minacciato i coltelli, le mega vendette, far fuori questi pezzi di merda come li ha definiti Casilino in un audio che lui ha mandato dai giornalisti, riferito ai tecnici del tesoro che non darebbero una mano al governo nel trovare le risorse per poter fare la manovra come la vogliono loro. Poi vedremo un'intervista di Salvini e io sul mio sito e anche qua su Facebook, mandate sul mio sito, faccio un sondaggio, cioè perché oggi i giornali si dividono in due. Voglio sapere cosa ne pensate voi, anche perché ne parlerò domani in televisione, cioè se questa è stata una intimidazione quella di Casalino che ha voluto sì che venisse resa pubblica e poi è stata resa pubblica, oppure in realtà si tratta semplicemente di quello che fanno spesso i portavoce, cioè dicono quello che è l'umore di un governo sperando che poi questa cosa vada a confluire nei pezzi come umore del governo più che come vera e propria intimidazione. I titoli oggi sono stupendi, il quotidiano nazionale fa caccia al tesoro, inteso caccia ai funzionali del tesoro. Il più bello di tutti, come spesso avviene quello del manifesto, Rocco e i suoi coltelli, non i suoi fratelli e i suoi coltelli. Andiamo subito sulle posizioni in campo. Quella di Calabresi, il direttore della Repubblica, dice che la cosa più ridicola è stata quella del presidente del Consiglio Conte che con un fare burocratico dice che sono state violate le norme costituzionali sulla segretezza delle comunicazioni, cioè Conte di tutta questa grande pasticcia si occupa del fatto che siano stati resi pubblici le conversazioni di Casalino nei confronti dei giornalisti. Dunque, dice Calabresi, il problema non è il contenuto ma semmai è il problema soltanto la forma e quindi è ridicola la posizione di Conte mentre resta, dice Calabresi, una grande intimidazione nei confronti del governo. Non mi schierete qua intimidazione, andate tra poco, lo troverete sul sito nicolaporro.it quindi vi chiedo la pazienza di andare sul sito tra pochissimo, la pubblicheremo tra pochissimo, Marco che ci vede e spero che si ricordi di mettermela subito online. La Cesaretti sul giornale fa invece un retroscena molto diverso, dice state attenti perché Conte all'inizio quando ha visto e ha sentito quell'audio di Casalino si è arrabbiato come una bestia, lo dice forse anche un po' un retroscena del Corriere della Sera e avrebbe voluto addirittura far fuori Casalino, ma in realtà Casalino non si può far fuori perché la longa manus del Casaleggio e Associati sulla comunicazione è l'uomo di Di Maio a Palazzo Chigi, è l'uomo di Casaleggio a Palazzo Chigi, tesi della Cesaretti. Cosa pensa il direttore della Verità, Belpietro? Ma intanto dice il portavoce che si fa rubare la voce non è astuto. Questo ricorda i grandi portavoce, ad esempio quelli del Quirinale, Gifuni, eccetera, che sussurravano delle cose e facevano capire cosa pensava il Quirinale. Quindi la tesi di Belpietro è normale che i cronisti pubblicano, porca miseria, ma il punto fondamentale non è che hanno pubblicato i cronisti quello che ha detto Casalino. Il problema è che comunque c'è una sovrastruttura di mandarini che non permette, cioè paggio 2 e 3 della Verità, non permette di fare nulla in questo paese. Sallusti è durissimo, parla di metodo mafioso, di intimidazione. La tesi del giornale è che Casalino è come Rina. Adesso farà forse un po' ridere, ma insomma se leggete il pezzo di Sallusti ha una sua coerenza logica. Il metodo mafioso dice vedremo se Tria si sottometterà a questo metodo mafoso. Molto più... molto peggiore, tra l'altro, io trovo la ricostruzione che mi sembra il giornale che dedica paggio 2 e 3 a questa vicenda è quella battuta che Casalino fece a un collega del Foglio, Salvatore Merlo, che appena lo incontrò gli disse adesso che il Foglio chiude, che fai? Ecco, questa è una frase da testa di minchia, da orribile personaggio arrogante come è stato Casalino nei confronti di quel giornalista. L'ha fatta davanti a tutti, non l'ha fatta nelle segrete stanze o nelle comunicazioni private. Ecco, io su quello mi sarei scontrato più che su questo, perché il godere delle difficoltà supposte di un giornale è lo stesso filone per cui Grillo diceva voi giornalisti vi vogliamo vomitare tutti. Ecco, questo è il Casalino schifoso, l'altro lo voglio capire insieme a voi. Travaglio è straordinario oggi e lo dico con enorme ironia perché qualcuno non pensi che io su questa cosa ne sia convinto. Cioè Travaglio oggi riesce, il giornale che ha pubblicato le intercettazioni anche dei peggiori delinquenti, il giornale che se ne fotte del segreto istruttorio, che cosa dice oggi? Quindi oggi Travaglio dice qui il problema semmai sono i cronisti, non ciò che Casalino dice, cioè i cronisti che hanno svelato quello che gli ha detto Casalino. Questo ha detto Travaglio, basta vedere Belpietro che difende Casalino, ma dice ma Casalino è ovvio che se parli con i giornalisti quello lo pubblicano, e Travaglio che fa la verginella, lui che ha pubblicato qualsiasi cosa, beh questo dice il problema sono i cronisti, insomma tra poco il sondaggio. Giulia Grillo, il messaggero del Ministro della Sanità, dice bisogna togliere il numero chiuso al secondo anno di medicina e io incredibilmente sono d'accordo con lei, nel senso che la selezione la fa il mercato, la selezione la fa l'istruzione, la selezione la fa la durezza, il merito di queste università che sono ancora molto ben preparanti, non questi test che poi alla fine rischiano di tagliare le gambe a persone che meritano. La cosa più ridicola della giornata comunque è la foto che in prima pagina pubblica il Corriere della Sera e non solo delle ministre degli esteri dei paesi di tutto il mondo, che si riuniscono a Montreal, ce ne sono 17 su 30, in bella vista sempre col suo taglierino bianco la Mogherini. La cosa che ti fa pensare è che queste ministre degli esteri si incontrano a Montreal perché vogliono che ci siano più persone che ricoprano i ruoli importanti di sesso femminile. A parte la ridicolaggine di questa cosa, a parte il fatto che non voglio capire perché dobbiamo spendere i soldi i contribuenti per farli incontrare a Montreal, per dirsi chissà che cazzo si dicono. Tra queste 17 c'era anche il ministro degli esteri di Santa Lucia, io ho grande rispetto per il ministro degli esteri di Santa Lucia, sono stato a Santa Lucia perché sono una persona fortunata, questo, buco, anzi ve lo faccio vedere qua. Santa Lucia entra in questo dito, qua, 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 Santa Lucia, Santa Lucia, un isoletto, uno scoglio con la Mogherini. Allora, il caso Mogherini fa capire che non è importante che ci siano delle donne nei posti chiave, è importante che ci siano delle persone che se lo meritano, che abbiano un senso. Per l'Italia la Mogherini come commissario europeo è stato un disastro, la più grande cazzata tra le tante che ha fatto Renzi è quello di prendere un incompetente, poi parlano del Movimento 5 Stelle, metterle in un ruolo importante la Commissione europea e nel posto sbagliato. Noi abbiamo la signora con il velo che va in Iran, questa è l'unica foto che mi ricordo della Mogherini e questi qua stanno a romperci le balle sul sesso dei ministri degli esteri. Mi occuperei del fatto che il ministro degli esteri, questo addirittura l'altro rappresentante dell'Europa, la Mogherini, prima c'era la baronessa Ashton, un disastro anche lei, il problema non è se è donna o uomo e quanto sono pippe o uomini o donna nello svolgere quello che fanno. Comcast c'è su tutti i giornali che è una società di una famiglia privata, di una famiglia americana, si compra Sky, il 61% di Sky, il 39% c'era ancora Marduk attraverso oggi Fox e Disney, ma sostanzialmente in questa gara al rilancio la televisione britannica che controlla anche la televisione italiana va a finire in questa società americana che si chiama Comcast, cioè, e questo lo spiega bene oggi un pezzo del fatto, la società editoriale più democratica che esista, nel senso liberal, è di una famiglia vicina a Obama, gli diedero 2 milioni di euro per fare il suo campagna elettorale, quindi Sky, che è già una specie di, come possiamo dire, consorzio del politicamente corretto, oggi dovete pensare che ha una proprietà che è quella che ha finanziato Obama, nello spirito dei tempi. Benissimo, la vedremo ancora di meno. Fantastico, è un'inchiesta, devo dire, molto buona del Sole 24 Ore, mi complimento con loro, sui cosiddetti CPI. I CPI, in inglese, vorrebbero dire l'aumento dei prezzi, l'inflazione, CPI, mi sembra, il current price index, mentre invece in Italia si chiamano CPI, i centri per l'impiego. Cosa servono? Zero, zero, zero. I centri per l'impiego sono una follia, con la quale noi dovremmo vedere e verificare la follia del reddito di cittadinanza, sono 501, impiegano 8 mila persone, l'inchiesta del Sole fa vedere come in Germania siano 99 mila le persone che lavorano nei centri per l'impiego, e solo il 3,4% degli italiani disoccupati ha trovato un posto di lavoro attraverso i CPI. È bellissima la scena di Lecco e la scena di Roma, cioè due centri per l'impiego completamente diversi e con ruoli completamente diversi, in cui l'atteggiamento dei funzionari, quando arriva qualcuno a cercare il lavoro, è il caso di Roma, più che altro è burocratico. È portato questa carta, ti faccio vedere lo storico, il 60% di quello che fanno a Roma sono carte, non cercare il lavoro per chi lo deve cercare. E a questi noi daremmo il controllo della bontà del reddito di cittadinanza a quelli che non riescono oggi a trovare un posto di lavoro e che si occupano solo delle scartoffie. E quindi questi sarebbero i pezzi di Bonafede o Di Maio, sarebbero questi i posti che sono tutelati a controllare che il sussidio non vada a finire a dei fannulloni, i CPI. E dove funzionano peggio i CPI? Dove ci vorrebbero meglio, cioè ci vorrebbero migliori nel sud, invece sono migliori all'Ecco. E esattamente al sud, dove ci sarà maggiore reddito di cittadinanza, sono quelli che funzionano peggio, hanno meno infrastrutture tecnologiche, hanno meno computer, hanno più carte da fare. Grazie a loro controlleremo, secondo voi, se vengono più o meno dati bene i sussidi di s'occupazione. Ma chi l'ha raccontata? La Germania, nel frattempo, nel silenzio assoluto, cinque righe sui giornali, la trovo stupendo, ha un'italiana che aveva perso il lavoro, incinta con un bambino di tre mesi, quindi l'aveva perso per la maternità, gli dice via! Perché non è più lavoro e non ha il reddito per poter rimanere qua. Cioè, mentre la Germania caccia via gli emigranti italiani, francesi, spagnoli o portoghesi che non hanno lavoro, noi ci prendiamo gli immigrati che vengono qua senza neanche documenti. Se a voi vi sembra una cosa coerente in questa Europa, ditemelo. Molto su Atreio ieri, Bannon che ha detto le sue cose, l'applauso, Fico e Salvini, ma la cosa importante di Salvini oggi è l'intervista e con questo concludo al Corriere della Sera e qui dice che la legge deve essere più coraggiosa, deve essere espansiva. Ne ha parlato anche con investitori stranieri e ha detto una cosa molto importante, secondo me, che io condivido. Se il paese non cresce, il debito aumenta. Cioè, il concetto di far aumentare il PIL, che è il vero motore per la crescita di un paese, ma il PIL si aiuta non col decreto di dignità, si aiuta aiutando le imprese, non impedendo alle imprese, per esempio, di poter assumere con causali che sono impossibili. Questa forse è l'obiezione che uno avrebbe potuto fare. E sulla pace fiscale dice che è soltanto chi le dichiarazioni le ha fatte. Come vedremo domani a Quarta Repubblica, se questa è la pace fiscale, la pace fiscale riguarda nessuno, praticamente. Perché se io ho fatto una dichiarazione di redditi e poi non ho pagato le tasse perché è impossibilitato per la crisi economica, stiamo parlando di una ridottissima, ridottissima platea di contribuenti. L'unica cosa, meno i migranti, dice, ci porteranno a un risparmio di un miliardo che potremmo mettere nel sistema, dice Salvini. E dice bene, assumendo 10.000 persone forse dell'ordine, anche questo dice bene. Il DEF, però, riguardo alla Raggi, mentre ieri aveva fatto qualche battuta contro Roma, oggi nell'intervista fa un passo indietro dicendo certo, non si può risanare in tre anni quello che è stato distrutto in 30. No, caro Salvini, se tu vivessi un po' di più a Roma, voglio dire, con la gente, come dici tu, con le persone, ti renderesti conto in che disastro è piombata questa città. Non si assolvono i 30 anni precedenti, ma non si assolve neanche la gestione orribile che sta facendo oggi la Raggi. Ultima questione, visco il governatore della Banca d'Italia, striglia il governo dicendo non mollate sul deficit, il Sole 24 ore sintetizza le quattro cose fondamentali che ha detto. Intanto, che ci vogliono più investimenti pubblici, e su questo, su investimenti pubblici e infrastrutture, è anche d'accordo il governo, vediamo quali infrastrutture faranno, perché mi sembra che la no tab e la no tab vada per la maggiore. Ma dice, infine, visco, è necessario maggiore avanzo primario, cioè la differenza tra le spese e le entrate, lasciando perdere i 70 miliardi di interessi che noi paghiamo sul debito. Più avanzo primario vuol dire quindi fare meno deficit, la vedo complicata. Poi dice che bisogna stare attenti ai tassi di interesse, ma non dipendono ovviamente dall'Italia, bisogna investire in ricerca, grazie, lo sapevamo, e soprattutto dice, ed è questo molto interessante, attenzione a non spiazzare troppo i privati, cioè non fare finta che i privati siano un ostacolo alla crescita. Elda dice, tutti sapientoni giornalisti? Sì, siamo tutti sapientoni, noi non facciamo altro che leggere i giornali e ripetere quello che vediamo qua. Tra poco il sondaggio è stata un'intimidazione quella di Rocco Casalino o fa parte della, diciamo, della normale dialettica che c'è tra un portavoce e le proprie fonti? Bene, buonissima domenica a tutti quanti voi, ricordatevi tra poco il sondaggio sul sito e soprattutto domani sera a Quarta Repubblica, alle 21.30, Rete 4. Non mancate, ciao!